Ma la rivoluzione è possibile, il cloud computing ci consentirebbe di mettere in linea la conoscenza e quindi i servizi dei comuni, della sanità territoriale, ospedali, regione ed altre banche dati nazionali. Questo significherebbe burocrazia quasi zero, significherebbe condividere e controllare in maniera interattiva da parte dei cittadini quello che fa la pubblica amministrazione. La seconda domanda riguarda un necessario ragionamento. Non esiste una smart city senza una smart community. dare possibilità alle collettività di esprimere se stesse e partecipare in prima persona con la pubblica amministrazione. I cittadini nell'ambiente culturale della smart city possono controllare, possono condividere, però ci manca un approccio culturale su questo tema e quindi è importante che questi convegni spieghino le grandi potenzialità che la tecnologia già disponibile ci può dare. Il futuro nostro dipende molto da una visione smart della nostra regione. Grazie a posto. Convenio Udine Smart, qui a Udine, per ragionare di smart city, territori connessi e cittadinanza digitale. C'è una tematica importante affrontata nel corso del convegno che è quella della nuova possibilità tecnologica e della pubblica amministrazione. Qui con noi Mario Pezzetta, presidente del distretto di tecnologia digitale di Tavagnaco. Ma noi siamo già in grado di fare una rivoluzione, anzi alcuni comuni come il mio, quello di Udine ed altri della regione la stanno già facendo questa rivoluzione digitale e quindi mettendo in linea informazioni e conoscenza nei rispettivi sistemi informativi. Il problema è che questi sistemi informativi non si parlano fra loro, non parlano con quello regionale, non dialogano con la sanità territoriale. Il cloud computing può darci la soluzione e la svolta. La sostenibilità del nostro sviluppo, dei nostri servizi dipende in larga parte da questa soluzione che è già disponibile da alcuni anni e noi ci stiamo provando. Non si può ragionare in maniera coerente, approfondita di smart city senza affrontare la smart community. La popolazione e le cittadini che vivono sul territorio oggi possono liberamente partecipare alla pubblica amministrazione attraverso i sistemi del web sociale. Ma guardi, dall'esperienza che ho io, questa è una grande possibilità, non solo per controllare quello che fa la pubblica amministrazione, ma anche per innovarla. Noi sappiamo che i suggerimenti dei cittadini, la loro partecipazione attiva ai nostri procedimenti, alle nostre soluzioni per il territorio può essere fondamentale per la sostenibilità del territorio stesso, per tutti i controlli che continuiamo a subirli in modo tradizionale non servono a niente, anzi rallentano con inghippi burocratici quello che stiamo facendo. Udine Smart, convegno qui a Udine dicembre 2012, una presentazione, una prima nazionale, un open Udine, ovvero un servizio offerto dalla cittadinanza per tenere monitorate e controllare le attività degli amministratori pubblici rispetto a loro fare in giunta e in consiglio comunale in particolare. Qui con noi Vittorio Alvino, presidente di Open Police, ci racconterà qualcosa riguardo a queste importanti iniziative. Sì, Open Udine, che sarebbe il sito dedicato alla trasparenza e all'informazione di tutta l'attività di giunta e di consiglio, è una prima nazionale. È la prima volta che in Italia un comune, un'amministrazione comunale, apre i propri dati e rende accessibili tutti gli atti, tutti i procedimenti di giunta e di consiglio perché i cittadini possono essere informati tempestivamente e, cosa assolutamente rivoluzionale, essere informati prima che gli atti sono stati approvati e decisi. Oggi c'è un tipo di pubblicità che è molto limitata di questi atti e di queste attività, che è quella dell'Albo Pretorio Online. Da oggi, per la prima volta in Italia, per la prima volta un comune italiano rende invece accessibili tutte queste informazioni per tutti gli atti quando sono presentati. E quindi dal momento di presentazione in poi, ogni cittadino di Udine, ma anche di altre città, può seguire e venire informati direttamente, in casella di posta elettronica, su tutte quelle che sono l'evoluzione di un atto, dal momento in cui è presentato, discusso, fino alla sua votazione e approvazione finale. Tutti i cittadini possono dire se sono favorevoli o contrari, se hanno dei commenti da fare, delle altre soluzioni alternative da proporre. Ogni cittadino può anche monitorare e essere informato sull'attività del singolo politico, del singolo consigliere o assessore, ricevere informazioni su gli argomenti dell'attività di giunta e di consiglio. Quindi se si è interessati a fatti ambientali, si possono ricevere informazioni su tutti gli atti che vengono presentati, discussi e approvati su quell'argomento. Diciamo che da oggi in poi l'informazione sull'attività di giunta e di consiglio di un comune sono fatti all'ordine del giorno, molto più semplificati. e da questo momento in poi la partecipazione all'attività di giunta e di consiglio.